Scotti non lo sa, che fionaio, trombiamo la domenica nel furgone di Teri... Che c'è? Dai, però devi ammettere che è orecchiabile. Dice che va in chiesa, ma poi non ci va, anche se lei si inginocchia. Scotti non lo sa, Scotti non lo sa, Scotti non lo sa... Buongiorno. Buongiorno. Sa, ce ne sono tanti altri liberi di scompartimenti. Sì, sicuro. Mi scusi? No. Ma... Ma... mi scusi perdona perdona che c'è altra galleria perdona buongiorno buenos dias